Blagosphere è sul set dello shooting di Magnum Gold, dell'advertising di Magnum Gold, siamo in compagnia di Arianna adesso, siamo a Barcellona, ciao Arianna e bentornata su Blagosphere. Ciao a tutti, sono molto contenta di essere qua. Arianna, ci racconti un po' come è nata l'esperienza che ha portato poi a questa nuova campagna pubblicitaria di Magnum Gold, che è il nuovo gelato dell'estate. Sì, allora diciamo che sostanzialmente Magnum da sempre rappresenta il piacere estremo, il lusso da rubare e quest'anno per il 2010 Magnum ha una campagna molto forte e un prodotto estremamente innovativo. Parliamo di Magnum Gold, il primo gelato d'oro del mondo. Una vera febbre all'oro è già partita, siamo sul set a Barcellona del più grande PR event internazionale, dove qua con noi ci sono Benicio del Toro, la modella Carolina Carrera e tutti noi di Unilever e i nostri media partner hanno potuto girare un pezzo di film con loro. Questo si inserisce diciamo all'interno del grande lancio che in Italia partirà sulle nostre televisioni, al cinema e dappertutto il 18 di aprile. Quindi siamo qua per un preview, il 18 di aprile avremo questa campagna in onda, si tratta di un film girato a Hollywood dal famoso regista Bryan Singer, un regista hollywoodiano famoso che ha fatto anche il film I soliti sospetti. e avremo quindi quattro diversi spot advertising, il primo riguarda il lancio Magnum Gold che ha due declinazioni, poi avremo il supporto della nostra linea Mini che si trova anche al supermercato e poi avremo anche il prodotto Magnum Temptation che fa parte della famiglia Magnum, tutti e tre i film girati da Benicio del Toro insieme a Carolina Carrera in una vera caccia all'oro, in una vera rapina del più grande gelato del mondo. Parlando invece del media internet, cosa avete organizzato di speciale per Magnum Gold? Benissimo, quest'anno il sito www.manumalgida.it è più interessante che mai perché si trova un gioco molto interessante, inserendo una fotografia del proprio viso si sarà partecipi di un spezzettone del film con Benicio del Toro e con la modella Carolina Correira e quindi saremo noi consumatori i protagonisti di questo film. Quindi vai su magnum gold.manumalgida.it, scarica la tua foto, partecipa a sei parti del video e lo puoi già trasmettere via Facebook attraverso il sito. Quindi diciamo che quest'anno il sito Magnum e la nostra attività sul web è davvero interessante perché oltre a contenere informazioni contiene reale entertainment, quindi un vero film che si può girare via internet, via Facebook. E poi rende partecipi all'utente? Assolutamente, penso davvero che sia abbastanza innovativo nel suo genere, direi che tutto il lancio di Magnum quest'anno è più ricco che mai, a partire dal prodotto, dalla comunicazione, che ricordo sarà anche al cinema, quindi avremo il piacere di vedere il filmato lungo al cinema, sui giornali e appunto su questa grande attività web. Direi quindi proprio un piano a 360 gradi dove il piacere è ora il piacere da rubare, quindi Benicio ci sembrava un giusto testimone di una persona attiva e che avrebbe ben interpretato la parte. Arianna, grazie, a presto. Grazie a voi, ciao, alle prossime.